In arrivo all'Università di Salerno 18.000 studenti. Torna anche quest'anno Unisa Orienta, la manifestazione di accoglienza in programma dal 3 al 14 febbraio che porterà al campus di Fisciano giovani provenienti dagli istituti superiori del Mezzogiorno d'Italia. Scegli il futuro che vivrà il tema della sedicesima edizione. Ci sono nuovi 18.000 studenti che entreranno in questo campus. Noi siamo lieti di accoglierli e siamo lieti di aiutarli in una riflessione importante per la loro vita, per il loro futuro. Noi abbiamo un'offerta formativa, io direi, importante. Abbiamo ancora una voglia di crescere e di crescere con i giovani. Unisa Orienta sarà anche l'occasione per assistere dal vivo alle installazioni Trash People, realizzate con i rifiuti dall'artista tedesco a Schulz ed esposte al campus. L'arte per far riflettere i giovani sulla tematica ambientale. Abbiamo invitato l'artista Schulz con le sue sculture, con le sue opere generate dai rifiuti per far riflettere su quanto è importante la cultura, quanto è importante l'apprendimento nelle scelte della vita e della società. I giovani devono scegliere il loro futuro professionale ma sta anche alla loro scelta il futuro dell'ambiente. Quindi vuole essere un richiamo a questo tema su cui peraltro devo dire che i giovani sono già molto sensibili, anzi stanno scuotendo le coscienze dei grandi.